ci siamo io il matteone e dietro di noi tante margherite quindi ora io darò 5 margherite al matteone e il matteone porterà 5 margherite e 5 ragazze vai scegli le bene 1 2 3 questa mi piace 4 e la quinta non so quale scegliere questa l'ho vista ce l'abbiamo che bei modi grazie prego grazie mille ora tocca alice per cui andiamo un regalo per te grazie prego e le ultime 3 eh queste 3 per i bambini